Ormai in ogni grande scandalo di corruzione in Italia compare sempre un politico corrotto, una cooperativa e un'organizzazione criminale. Basta scorrere i grandi fatti di corruzione degli ultimi anni, dall'Expo di Milano a Mafia Capitale, il Mose di Venezia, TAV in Val di Susa, l'inchiesta Sistema di Firenze e l'ultimo caso, quello dell'arresto del sindaco Ferrandino ad Ischia, sindaco del PD, candidato dal PD alle ultime europee 25 maggio 2014. In tutti questi casi compaiono sempre cooperative. Ieri siamo stati al Tribunale di Napoli per chiedere che si accerti questo legame sempre più fitto e preoccupante tra cooperative e casi di corruzione. Mentre stavamo depositando questo esposto alla procura di Napoli, i parlamentari del PD facevano dei comunicati contro di me per invitarmi a non andare al Tribunale, evidentemente per paura delle nostre denunce. Come se non bastasse, mentre stavamo chiedendo maggiori indagini sul ruolo delle cooperative nei grandi scandali di corruzione in Italia, Lega Copp mi ha querelato. Lega Copp è l'organo di vigilanza sul corretto funzionamento delle cooperative e mi sembra assurdo che mentre sto chiedendo che ci siano maggiori accertamenti su quelle che sono le cooperative corrotte e coinvolte nei grandi scandali di corruzione, l'organo di vigilanza sulle cooperative è querelime. Io credo che la maggioranza delle cooperative in Italia lavori onestamente e svolga anche un grande ruolo sociale, ma questo non significa che le cooperative corrotte non devono essere citate. Basta guardare i grandi scandali, sono sempre le stesse, Manuten Copp e CMC nell'Expo, Consorzio Cooperative Venete e CCC nel Mose di Venezia, Cooperativa 29 giugno in Mafia Capitale, Sistema l'inchiesta di Firenze vede Copp 7, Finseven, Notavia e poi Ischia con l'arresto del sindaco del PD Ferrandino con la CPL Concordia che è una delle cooperative storiche. Questi sono fatti. Allora mi sembra assurdo che mentre sto andando in tribunale il PD mi chiede di non andare in tribunale, mentre sto denunciando la commistione tra cooperative, criminalità organizzate e casi di corruzione, Lega Copp mi querela. Credo che su questo c'è da dire che siamo sulla buona strada e questi sono i segnali. Andremo avanti e cercheremo di accertare tutte le responsabilità e di capire perché le cooperative, quelle legate ai partiti soprattutto, sono diventate la cerniera tra i casi di corruzione e i soldi da riciclare delle organizzazioni criminali.